Una corsa contro il tempo a Montecatini per pagare la Tares, la tassa comunale sui rifiuti e sui servizi che con il decreto Salva Italia è andata a sostituire la TIA, la tariffa di igiene ambientale e la TAR sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Un tributo in vigore dal primo gennaio di quest'anno basato sulla superficie dell'immobile, sul numero dei residenti, l'uso, la produzione media dei rifiuti e vari altri parametri che ha lo scopo di coprire il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del comune. Secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale della città termale con delibera dello scorso 17 giugno, la tassa doveva essere pagata in due rate. Il primo acconto il 10 settembre e il saldo lo scorso 10 dicembre. L'amministrazione avrebbe quindi notificata al contribuente con avviso bonario di pagamento per ricordare la scadenza entro la quale effettuare il versamento, ovvero quella del 10 dicembre 2013. Due giorni dopo, giovedì 12 dicembre, il sindaco Giuseppe Bellandi, dal sito internet del comune di Montecatini, precisava che le bollette della Tares pervenute nei giorni scorsi ai cittadini con scadenza 10 dicembre, sono avvisi bonari che il termine ultimo per il pagamento è il 15 aprile 2014. Purtroppo lo fa due giorni dopo l'ospirare del primo termine e quindi nel frattempo, nonostante la crisi che devasta non solo l'Italia ma Montecatini e la Valdinievola in particolare, i cittadini hanno fatto le corse per pagare e ci sono degli altri cittadini che invece non pagando hanno la possibilità di farlo anche fra quattro mesi. Una modalità che non è sembrata corretta al gruppo consigliare del PDL che ha presentato quindi una mozione da discutere nel prossimo consiglio comunale previsto prima della fine dell'anno nella quale chiede la restituzione della rata pagata dai cittadini e la modifica di alcuni articoli del regolamento comunale in materia di Tares. Il regolamento Tares è un regolamento iniquo sotto molti aspetti. Per esempio la tassa viene parametrata sul numero delle persone che occupano un appartamento non effettivo ma quello dichiarato ad inizio anno. Se due persone cambiano residenza o se ne vanno da altre parti comunque quella famiglia dovrà pagare in relazione al numero comunicato. È ingiusto. Non c'è il criterio della stagionalità per gli esercizi commerciali e per gli alberghi e quindi si paga per tutto l'anno e invece sarebbe giusto pagare per quanto si è aperto. È giusto anche riconsiderare le tariffe. Non è possibile che una persona anziana che abita in un immobile di 40 metri quadri paghi 250 euro di Tares. Questo mi fa introdurre l'ultimo argomento. In generale si deve legare il pagamento della Tares al reddito. Reddito della famiglia e reddito dell'impresa. Si dovrà inserire una soglia minima e oltre questa soglia si dovrà pagare in relazione a quanto si guadagna o qual è il reddito della famiglia.